Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ciao a tutti, buon anno, perché oggi è iniziato il 2024 bugia, in realtà è già passata tipo una settimana ormai, però vabbè, quello è un altro discorso benvenuti in questo video, dove con un camino e un sistema di illuminazione dato esclusivamente dal mio lampadario, perché in questo momento sono povero diciamo che voglio annunciarvi quelli che sono i miei buoni propositi dell'anno ma non sto parlando di tutti quelli relativi alla mia vita, alle cose, perché quelli li tengo per me ma vi voglio parlare dei buoni propositi relativi, udite udite, ai social, perché nell'ultimo periodo o meglio negli ultimi due, anche tre anni forse, i social network dalla mia gestione sono effettivamente un po' allo sbaraglio, non si capisce niente e non avete idea da quanto tempo questa cosa mi dà fastidio in realtà fare video, fare qualsiasi tipo di contenuto sui social è ancora una delle mie passioni a livello almeno di interesse, ma nei fatti è tutto un po' allo sbaraglio c'è da dire che in questo 2023, appena passato, che apro la parentesi e chiudo per me è stato un buon anno e ci tengo a chiederlo a voi che cosa ne pensate e diciamo che ho riempito il mio canale YouTube esclusivamente, ma ve lo giuro solo di quello Minecraft e qualche live su FIFA, ma gli unici video che sono usciti e ci ho guardato l'altro giorno ho detto, oh mio dio, sono letteralmente gameplay di Minecraft di una serie che in questo momento non ho più intenzione di portare avanti non so se mai andrà avanti, probabilmente anche sì perché se dovessi ricontinuare un mondo probabilmente ricontinuerebbe da lì però insomma la situazione in questo momento è statica e lo scorso anno non abbiamo fatto molto è stato un ho voglia facciamolo, non è così che mi piace gestire le cose di conseguenza in questo 2024 voglio provare innanzitutto ad avere un periodo dove effettivamente mi metto lì a scrivere tutti i giorni o quasi tutte le volte che mi viene un'idea ciò che vorrei realizzare a livello proprio di progetto di canale, anche perché è quello il problema io non so che cosa realizzare ogni volta che mi butto in qualcosa, anche cimettandomi in quelle che sono le mie passioni al di fuori del social diciamo che mi blocco e dico ma perché lo sto facendo? è un contenuto forzato? non mi piace? siamo sempre lì a rigirarcela sopra e intanto i video o non escono o non vanno sono fatti male, non sono soddisfatto e se non sono soddisfatto tendenzialmente duro poco quindi insomma è chiara la situazione quindi sì vorrei provare a pensare effettivamente che cosa fare stilare un botto di idee e di conseguenza andarne a scegliere la migliore oppure le migliori da poter realizzare che vadano in questo caso a seguire quelli che sono i miei interessi cercando di realizzare però in questo caso contenuti di una buona qualità diciamo che youtube una volta sì ci guadagnavo qualcosina era una passione che aveva anche un riscontro ma non soltanto da livello economico ma anche umano in questo momento effettivamente non c'è nulla anche perché il più delle volte dati i progetti di poca qualità che vado a realizzare diciamo che mi viene proprio una mancanza di voglia alla base che non mi fa proprio piacere l'idea di realizzare contenuti e quindi non ho un riscontro da nessun tipo di aspetto e vorrei provare a riottenerlo in qualche modo in questo 2024 quindi se qualcuno è arrivato a questo punto dopo tre minuti e si è chiesto ma che cosa farai in questo 2024? beh, diciamo che la mia intenzione è trovare una strada perché mi sono stufato è sempre stato negli ultimi due anni nei buoni propositi trovare una strada trovare un modo di entrare di nuovo nei social non ci sono mai riuscito in questo anno voglio farlo e voglio divertirmi in un modo o nell'altro facendo qualcosa che effettivamente mi possa piacere e che possa prendere insieme tutto senza dover per forza dare spiegazioni logiche come ho sempre e dico sempre fatto se avete idee ovviamente ditemelo nei commenti ci tengo a sapere il feedback della mia community che ormai non c'è più siamo rimasti in quattro almeno nelle live che faccio siamo sempre quei quattro quindi immagino che sto parlando retoricamente a loro ciao ragazzi spero che lo stiate bene e con un grande augurio che io possa riuscire a trovare la mia strada e che voi possiate passare un buon 2024 vi auguro un buon anno ci vediamo alla prossima entrate mi raccomando nel gruppo telegram seguitemi su instagram e seguitemi su triz che è il nuovo social simile a x barra twitter che è molto interessante e posto un botto di roba che non c'entra un cazzo con i social ciao